Sembra impossibile, sono leggerissime e sono fatte di carta, ma sono scarpe comode che non si sciupano con la pioggia. I quattro brevetti permettono alla scarpa di essere waterproof, per cui di avere totale garanzia di resistenza all'acqua e di penetrazione all'acqua. Guardiamole insieme queste scarpe, hanno una bellissima linea. Sì, tutto nasce dal prodotto base, che è la nostra sneakers in carta bianca, perché fondamentalmente noi come storia vogliamo partire da qua, per cui la scarpa bianca. Poi la lavoriamo in vari colori, con colorazioni ancora artigianali italiane, come il cosiddetto di tinto capo, che nell'estivo prevedono il tinto capo solo della tomaia. Invece nell'invernale abbiamo fatto il tinto capo di tutta la scarpa, per cui anche della sola, che poi lavoriamo per renderla vintage. Poi possiamo usare la carta con altri materiali. L'importante è che noi nel nostro progetto e prodotto non utilizziamo né pelli, né cuoio, né pellicce. L'idea è firmata dal marchio che si chiama Cartina, fondato a gennaio 2014 dall'imprenditore Maurizio Colucci e Mirko Paladini, professionista nel settore moda di Lucca. La giovane start-up ha lanciato anche un altro progetto innovativo, soprattutto per il mercato italiano. La prima operazione di equity crowdfunding nel mondo con l'autorizzazione Consobo, per cui da oggi chi va sul portale Startup o sul nostro sito, che è il portale collegato al Banco Popolare, può diventare il socio di Cartina. È un'operazione finanziaria mai fatta in Europa, nel mondo, per cui abbiamo voluto innovare sia da un punto di vista di prodotto, e vogliamo innovare anche come modello di azienda. Grazie a tutti.